L'attuale situazione di politica monetaria nelle principali aree geografiche. A che punto siamo? Per molti anni ci siamo abituati, un po' tutti, ad abusare di un farmaco che ci ha aiutato molto, ma che può avere degli effetti collaterali anche indesiderati. Questo farmaco si chiama ZIRP. ZIRP sta per Zero Interest Rate Policy. Ora, a parte lo scherzo, che cosa voglio dirvi? Che per anni siamo stati abituati, ormai dal 2009 in avanti, a una politica monetaria molto espansiva, che ha agevolato un po' tutti, ha agevolato diverse asset class, diversi settori e soprattutto ha avuto come effetto un forte incremento delle emissioni di debito a livello internazionale. Ma a che punto siamo oggi invece a livello di politica monetaria in America, in Europa e negli altri stati? Sappiamo che a settembre la Yellen ha deciso di non iniziare quello che era tanto sperato e tanto sannato, inizio del rialzo dei tassi di interesse. Quindi la politica monetaria rimane ancora comunque accomodante, comunque espansiva, per il momento sia in America sia in altre aree geografiche, penso ad esempio all'Europa o al Giappone, dove addirittura al posto di pensare eventualmente a stringersi sta pensando ad accrescere ancora gli stimoli monetari. Quindi che cosa succede in questo periodo sui mercati? Anche a seguito di un fisiologico, direi, rallentamento dell'economia cinese. Non potevamo certo aspettarci che la seconda economia del mondo continuasse a crescere sempre al 7-8%. È chiaro che un rallentamento prima poi ci doveva essere. Abbiamo iniziato a tornare a vedere volatilità. Forse c'eravamo un po' dimenticati della volatilità sui mercati finanziari, c'eravamo dimenticati che i mercati possono salire e possono scendere. Grazie allo ZIRP avevamo vissuto anni un po' ovattati da questo punto di vista. Ora la volatilità è tornata a esserci e questo è anche accresciuto, questo fatto è anche accresciuto proprio dalla enorme massa monetaria che nel corso degli anni è stata immessa nei mercati. Io ormai da tempo vado parlando di onda liquida, cioè di flussi monetari che si possono spostare da una parte o dall'altra del mondo e creare appunto maggior volatilità sui mercati. Cosa è successo inoltre? È successo che abbiamo iniziato a vedere anche alcuni scossoni su asse class che solitamente, tradizionalmente abbiamo sempre considerato abbastanza sicure. Abbiamo visto a maggio alcuni scossoni addirittura sul Bund è considerato lo strumento più sicuro possibile. Questo è dovuto proprio alla situazione che stiamo vivendo. Quindi in questo momento abbiamo ancora tanta massa monetaria presente nei sistemi finanziari, abbiamo ancora una situazione in cui in America per un po' di tempo rimarremo in questa situazione, quindi ci dobbiamo aspettare volatilità nei prossimi mesi. Però attenzione, la volatilità non è un male assoluto. In realtà in alcuni momenti la volatilità può anche diventare un aiuto e può creare anche delle opportunità. Quali conseguenze potrebbe produrre un rialzo dei tassi da parte della Fed nelle principali asset classes? Ma cosa succederà quando effettivamente in America si eccederà di alzare i tassi? Questa la domanda che un po' tutti ci stiamo ponendo. Innanzitutto bisogna dire che non è ancora chiaro quando effettivamente si avrà il primo rialzo. Ci sono infatti dei dati relativi all'economia americana molto positivi, ma anche altri dati, ad esempio sull'inflazione, che fanno pensare che probabilmente non è ancora il momento per una stretta veramente forte. E poi soprattutto tutti gli operatori, tutti gli esperti, si stanno anche chiedendo cosa succederà dopo il primo rialzo, cioè in particolare se ci sarà un aumento graduale dei tassi di interesse e quanto questo perdurerà. Ora tenete presente anche un'altra cosa, l'anno prossimo sarà l'anno delle elezioni americane e tradizionalmente esiste il cosiddetto semestre brianco, cioè nei sei mesi precedenti alle elezioni normalmente la Fed non si muove, quindi mantiene i tassi invariati. Comunque sia, innanzitutto possiamo dire che se il rialzo dei tassi in America sarà graduale e quindi se andrà a seguire un po' quelle che sono già le aspettative scontate nei prezzi delle attività finanziarie, beh questo essenzialmente potrebbe essere un rialzo che non dovrebbe provocare, salvo imprevisti, grossi scossoni. Naturalmente però qualcosa cambierà, cioè quando inizieranno ad alzarsi i tassi in America è chiaro che anche in Europa e anche dalle altre parti del mondo degli effetti vedremo. Allora proviamo un po' a ragionare su quali potrebbero essere gli effetti sulle diverse asset class che normalmente sono nei portafogli degli investitori italiani. Beh è chiaro che sull'obbligazionario un aumento del costo del denaro in America si ripercuoterà anche da altre parti del mondo, quindi sulla componente obbligazionaria bisognerà essere più attenti e gestire in maniera più attiva le proprie posizioni proprio perché bisognerà stare attenti a quei settori maggiormente esposti al dollaro e al rialzo dei tassi americani che potrebbero evidentemente aumentare la volatilità. Però tenete presente che un aumento dei tassi che in parte in alcuni settori del mercato obbligazionario già scontato potrebbe comunque portare a maggiore opportunità di investire a tassi un po' più alti, a rendimenti un po' più alti di quelli che abbiamo adesso. Chiaramente chi è più indebitato soprattutto ripeto nella componente dollaro subirà chiaramente questo effetto. Per quanto riguarda il mercato azionario gli effetti sono un po' più difficili da considerare. Tenete presente che il non rialzo della Fed in settembre in realtà è stato visto in maniera negativa perché gli operatori di mercato hanno iniziato a pensare che se la Fed non rialza i tassi evidentemente l'economia non sta andando così bene. Un futuro rialzo dei tassi potrebbe addirittura invece avere degli effetti magari anche positivi sui mercati azionari perché questo significherebbe che effettivamente almeno in America l'economia sta tornando a una situazione normale e pian piano si sta arrivando a una normalizzazione della politica monetaria. Questo significherebbe avere anche un ritorno diciamo sui fondamentali quindi la possibilità di ragionare meglio sul valore delle asse classe, sul valore delle aziende. Poi c'è il campo delle valute. Il campo delle valute è sempre difficile da prevedere. Naturalmente a bocce ferme se seguiamo quelli che sono gli schemi economici classici possiamo dire che un aumento dei tassi in America rispetto all'Europa o al Giappone dove i tassi rimarranno fermi, dove ci saranno nuovi stimoli dovrebbe a grandi linee portare un apprezzamento del dollaro. Tenete presente però che in realtà il dollaro si è già fortemente apprezzato rispetto a molte altre valute e tenete anche presente che il mercato dei cambi è sempre quello più difficile da andare a valutare e sul mercato dei cambi è sempre difficile fare delle previsioni. La gestione emotiva del cliente in fase di mercati volatili. Quali suggerimenti dare agli operatori del settore? In questo momento di volatilità di mercati che è tornata a essere forte come magari non ci ricordavamo più da anni, chiaramente la domanda che si pongono tutti è come aiutare i clienti ad effettuare delle scelte di investimento consapevoli. Beh io cercherò di darvi alcuni suggerimenti per gestire soprattutto l'emotività del cliente in questo momento e per evitare che il cliente preso dal panico magari faccia delle scelte di investimento non coerenti con i suoi obiettivi di investimento e con il suo orizzonte di investimento. Beh il primo suggerimento che vi do è questo, siamo in un momento sicuramente abbastanza critico, bisogna risedersi con il cliente e ridefinire, ribadire con lui il suo orizzonte di investimento e il suo profilo di rischio. Se il cliente ribadisce che il suo orizzonte di investimento è medio lungo e che il suo profilo di rischio gli permette anche di prendersi delle posizioni un attimino più rischiose, questo momento può diventare anche un momento opportuno nonostante la volatilità, un momento in cui si possono ad esempio ridefinire scelte di portafoglio o attuare strategie di investimento magari di accumulo pian piano nel corso del tempo proprio per sfruttare la volatilità. È chiaro invece che se un cliente non è in grado emotivamente di sopportare questo rischio, se il suo orizzonte di investimento in realtà è breve, a questo punto dobbiamo consigliare al cliente di rimanere su asset class ovviamente meno rischiose e parcheggiare momentaneamente le sue risorse finanziarie. Naturalmente questo è un problema, è un problema perché oggi come oggi i promotori, i consulenti finanziari lo sanno, rendimenti a breve senza rischio non ce ne sono, quindi in questo momento stare sul breve periodo significa chiaramente ottenere rendimenti praticamente nulli. Però attenzione, se effettivamente questa è la necessità del cliente, cioè quella di rimanere essenzialmente liquido, non si potrà fare altro che mettere in evidenza al cliente questo aspetto e quindi consigliarlo in questo momento di non prendersi altri rischi. L'altro suggerimento che vi è chiaro che in un momento di mercato che è cambiato diventa più importante avere sicuramente una gestione diversificata, ma oserei dire anche una gestione un po' più attiva. Se fino a qualche tempo fa bastava investire in diverse asset class in maniera diversificata e aspettare che i mercati facessero il loro corso, in questo momento probabilmente una maggior frequenza di contatti con i clienti e una maggior frequenza di analisi delle posizioni è sicuramente necessaria. Tenete però presente che dall'ultima crisi che abbiamo vissuto, cioè dal 2008, l'industria del risparmio gestito sicuramente ha portato delle novità e delle innovazioni molto interessanti in termini di strategia di controllo del rischio, tale per cui oggi la diversificazione si può raggiungere anche con tante strategie più attive, più alternative e più basate sull'analisi e il controllo del rischio che permettono a mio avviso di creare anche in questo momento di volatilità dei mercati dei portafogli più resilienti, così come dicono gli esperti, e quindi di poter anche tragettare al di fuori di questo periodo quegli investitori che hanno un orizzonte di investimento più lungo.